Ciao a tutti ragazzi, sono Lucchetto e benvenuti nel canale. Anche oggi nuovo appuntamento con Bastion. Nel scorso episodio abbiamo visitato un livello, quello della pipa, siamo andati tipo in un sogno. Abbiamo trovato una nuova arma e io vorrei potenziare il martello. Vediamo se posso comprare il potenziamento del martello. Mi serve la roba pesante che non c'è. La grade non c'è, non c'è, non c'è. E niente. Andiamo così. Va nelle Skyway. Abbiamo fatto gli addestramenti, direi di fare prima i livelli, poi gli addestramenti. Il nucleo localizzato nel fiume Langston e poi l'addestramento del martellone. Vediamo. Ma che cos'è questa calamità? Io voglio scoprirlo. La fa tutto l'occasione. Accesso. Un oggetto. Allora, non torniamo più indietro perché da sempre oggetti particolari. un minimo di esplorazione. Non ci possiamo perdere, sono abbastanza semplici, semplici le matte. Queste le voglio fare fuori perché fungono. Allora. Cosa stanno combattendo? I fungitope? che cos'è? Dove sta sparando? Interruttore. Sei morto. qua. Pugione. 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 È di là. Mamma mia lo ho fatto il contrasto eh. Ragazzi è servito l'allenamento con lo scudo, riesco a contrastarli eh. ragazzi. Pugione. No. Voi non apparirete sulla mia navetta piccolina. Mamma mia Sparatemi, torrette Ahia No, 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 sto sbagliando Ah si, spariamo, è più facile prima che vengano Cos'è quell'uccellino che sta scappando là? Oh, aiuto Cos'è? Ahia Non scendere Pungi topo Pungi topo Con le spine Oh, è proprio uno squirt, non so mai Sono venuto a combattere Vai Che mucro si trova qua Non so dove andare Scuriamo Un'altra pezzoncina E mi sa che è di là Eh no, rimane indietro lo squirto però Uh, bello qua Possiamo cambiare? No, stiamo bene Buono che adesso nei livelli A metà del livello possiamo cambiare l'arma Che ci piace di più Però mi sto trovando bene col martello E lo sparazzano Le armi iniziali Ah, già il nucleo Adesso Oh Devo scappare Pecchi Aiuto Devo scappare Guarda Combattono gli squirti Oh Oh Questi sono amici Andiamo via Pecchi Che sono questi pecchi Che ci hanno attaccato Va qui Aiuto Abbiamo due belle torrette Ma ne evociamo un altro Altri pecchi Vedete qui No, ma rimangono indietro i Cosini I amici piccoli No, è così Ehi Non mi spaccate la torretta Non mi spaccate la torretta Non mi spaccate la torretta E altre torrette Dai Ok, per fortuna queste Non mi... Eh, ciao Non scappare di qua Velocemente Queste sono a ricerca Se fosse Andiamo di là Lanziamolo sotto Ivi Curiamo No, so caduto Mannaggia me Oddio Ma non posso cadere ogni volta Nelly Povera Nelly Che c'è sta Nelly Oh Via, via, via Via, via, via Boom Ah, Nelly La barchettina Aia Volevo come gli squirti Andate voi Tutte le pozze Aiuto Ammazza tra voi Vabbè Pochissima vita ragazzi Senza polzoni Ce l'ho fatta Proviamo Ce l'abbiamo fatta Oh Andiamo via Tre volte Eh, ci dice quanta volte siamo caduti dalla barca Apertura Si scende Oh I pecchi sono uccelli aggressivi Che ora soffrono di un complesso di superiorità In seguito alla calamità Il promontorio della prosperità Il promontorio della prosperità ragazzi Un due livelli in uno questo Forse dovrei disattivare I pecchi stanno combattendo Ma io preferisco I gas folli che i pecchi Mamma mia Quanto sono tosti Vedi qua Qua non apre? No Perché il contrasto Non lo ferma La città era il most beautiful place in the world We all knew that Perruttore Comprirà la porta sicuro No? Sì Cos'è? Che cosa ho fatto? Veleno E che ne so io Che c'è il veleno qua Aia E mo? E l'altro introdurre per la porta E questo ci porterà indietro Esatto Dove è tu Che vai Guardate Rimane là E rimane là Quello uccellaccio È brutto Ma poi è chiuso Deve andare là Guarda qua quanti ce ne sono Per fortuna che sono rimasti fermi Per rovia E dove devo andare? Ah qua Mannaggia quel veleno Quelle piantine piccole No Devo andare di là Che faccio ad andare di là? Ah adesso devo andare Opla Mannaggia loro Non c'è più niente Niente Vabbè altri soldi Solo soldi ragazzi La mia attacca è la canzone ragazzi Noo Ho caduto Prima Che appariva qualcosa Mannaggia sti Sti costano Sono funghi Piante Brotte Se l'hai chiuso Una di qua Ma aspetta Prima la Ok Interruttore E così Interrutto No io devo andare di là Però Aia un po' Stanno più indietro Mannaggia Niente segreto Forse di qua No mi sa che Non era un segreto Ora Mamma mia Questo Grosso Mi danno Le pozzoni Mi danno Oh è qua No 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 Veloce 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 Mamma mia Che cos'è Qui là Alla prima di qua Perché uno scurto Grande così Anche la pozione Se mi faccio colpire Da cosa Vabbè Proviamo adesso Un altro portone Chiuso Andiamo di qua Va Va Quante porte Portoncine Là non ci va Niente Non ho sbagliato Uh sei giusto Allora qua Siamo troppo avanti Dobbiamo aprire anche L'altro portone Ragazzi Quanto danno Fanno in gruppo Ragazzi E che cosa E cado pure E cado pure io Ma dai Così Andiamo via Andiamo qua Ok grande Sì Solo per la pozione È servito Ragazzi Ok Abbiamo anche aperto Già la porta Per proseguire E continuiamo Mamma mia Mamma mia Questi Uccellacci Grande pozione Da via Ok Ok Un'altra Un'altra Fortuna Di cover force Niente Non c'è niente Guardi indietro Guardi un poco Quanto è lungo Questo livello Oh un oggetto Niente nucleo ragazzi Diario in pelle Mamma mia Quanta strada Per trovare un diario Un quaderno consumato E vergato a mano Nella tradizione Scritta degli Ura Tra le note Leggibili Il volume Contiene Contiene Diversi diagrammi Scientifici Indecifrabili Disegni E formule Matematiche Ma le attore Mi dietro No Non pensa Perché era opportuno Un'altra Supersite Ragazzi Wow Benito Cantante Cantante Ok Si è tornata Con noi al basso Un'altra Un'altra Persona Che è sopravvissuta La calamità E vai Siamo in quattro Un'altra Ura Un altro nucleo Oh quante cose Dai parliamo con tutti Si Ok ci dice Zulf Del diario Cosa ne pensi Di questi disegni E diagrammi Questo è scritto Nella tua lingua natale Ok Ho parlato Qualcosa di nuovo Riesci a leggere Qualcosa di tutto questo Queste tabelle Formula hanno Un qualche significato Per te Non conosce la lingua Dice lei La cantante Zia Si chiama Cibarsi di questa roba Era una specie di dito Di passaggio Nella città A Ljura Piaceva? Con le spezie Ok Poi Dessintivo Dello sceriffo I sceriffi ti hanno dato Qualche grattacapo Sembri preoccupato Ogni volta che vedi Questo distintivo Che fanno farsi i sceriffi La struttura tradizionale Degli Ura Fu decretata fuori legge Nella città Questa è la tua Calligrafia Il diaro del padre Di zia Ok Ragazzi Possiamo salire Di livello Il rum Il vino Il punch Il whisky E sconfitto Vediamo questo Ok Ok Abbiamo posizionato Un altro pezzo Del nucleo Costruiamo Il memoriale L'ultima cosa Nuovi incarichi disponibili Vediamo qua Uh Il commiatto Il commiatto Così ci muovere Asselondia Anche ragazzi Qui adesso Non denegiamo Degli obiettivi Faccio un hero Sul campo di allestramento Consedi il numero Richiesto di premi Sul campo di allestramento Ma in sette premi Adesso così 10 medi Abilità segrete 10 più nemici Con un solo colpo Ben piazzato 30 volte No 15 volte Usando il controattacco Degli obiettivi Degli obiettivi Oh È finito? No Ragazzi ci facciamo Come avevo detto prima L'addestramento del martello E poi ci attende L'ultimo pezzo Del nucleo Lì già Ok Deposito I robi vecchi 100 gem E vado Facilissimo E attento Non spaccare tutto È la mia specialità Spaccare tutto Mamma mia ragazze Perché siamo Dei demolitorinati Ma Oh no Secondo primo Già la prima botta Voilà Ok Roba pesante Lo possiamo potenziare ragazzi È roba sbagliata Minimo di 27 secondi 10 secondi Difficile Ma da bene Con l'addestramento del martellone Adesso lo possiamo finalmente potenziare Sì E' buono che ho andato a posto Il potenziamento di qua Vai con il martellone No ragazzi 50 danno I montanti però con abbattimento E altri 50 danno È così Mamma mia ragazzi Che siamo Non ci fermo più nessuno Ragazzi L'episodio di oggi Può finire qui Commentate Condividete Lasciate un like Se il video vi è piaciuto E alla prossima Ciao Ciao